Oggi ad Arezzo al mercato, tra la gente, nonostante la pioggia, si va a cercare di capire anche qual è il sentimento dell'elettore perché c'è tanto anche astensionismo, questo immagino che lo avrete toccato con mano. Sì, lo tocchiamo tutti i giorni, questo è un grande problema, tra la gente perché questo è il luogo in cui bisogna stare. Innanzitutto per capire quello che tutti e tutte ci dicono, cioè che non ce la si fa più, che mentre il costo della vita aumenta a dismisura, l'inflazione ha toccato il livello record dell'8,4%, non vedevamo questi numeri da più di 40 anni in questo paese, l'unica cosa che sta ferma sono gli stipendi e le pensioni. Allora è arrivato il momento di ricostruire un meccanismo che agganci stipendi e pensioni al costo della vita. Se aumenta la bolletta, se aumentano gli affitti, se aumenta il costo dei generi di prima necessità, il pane, la pasta e il latte, non esiste che l'unica cosa che sta ferma sono gli stipendi e le pensioni, perché così le persone non ce la fanno, bisogna intervenire adesso. Come si può intervenire? Salario minimo, altri tipi di interventi? Ci sono molti strumenti, il salario minimo è una misura assolutamente necessaria contro il lavoro povero, bisogna intervenire contro la precarietà, ma bisogna su questo fronte ricostruire quello che un tempo si chiamava scala mobile. Qualcuno se la ricorda, chi ha qualche anno in più, per chi non se la ricorda è facile spiegarlo, era un meccanismo che consentiva in automatico di garantire che stipendi e pensioni, reddito delle famiglie, degli italiani e italiane, aumentasse in proporzione all'aumento del costo della vita. Guardate, non c'è nulla di più semplice da capire. Poi discutiamo della formula, della modalità tecnica, ma o entra nella testa che se aumenta il costo della vita anche i soldi con cui ti compri le cose fondamentali devono aumentare un poco, oppure questo paese va a gambe all'aria? Parliamo dei temi ambientali, ricassificatore a Piombino, il vostro è un no deciso o è qualcosa su cui si può ragionare? Enrico Letta dice che si deve fare. Il nostro è un no argomentato, che parte da una valutazione di merito, non c'è nessun pregiudizio ideologico, noi pensiamo che si debba investire qui ed ora, non nel futuro, come sempre, sulle energie rinnovabili, perché questa è la transizione energetica, questa è la vera autonomia dal gas russo, questa è l'autonomia dalle fonti fossili, ma sappiamo che un po' di gas servirà ancora per un po', non si può fare da un giorno all'altro. Il ricassificatore però dentro il porto di Piombino, cioè dentro la città di Piombino, senza la valutazione di impatto ambientale, dal nostro punto di vista è una scelta sbagliata, quindi discutiamo nel merito, e io penso che quando si discute nel merito, fuori dalla propaganda, quella magari di chi come Calenda spiega agli italiani che se si fanno i ricassificatori oggi è ben risolto il problema delle bollette, è un evidente imbroglio, perché anche se si facesse entrerà in funzione non prima di marzo, le bollette sono qui ora e l'inverno arriva prima di marzo. A marzo finisce, c'è la primavera, se si discute nel merito le soluzioni si trovano. Ci sono i tempi tecnici secondo lei per trovare queste soluzioni? Ci sono se si decide di aprire una discussione e di evitare di andare avanti, diciamo, testa bassa, appunto. C'è chi come Calenda propone addirittura militarizzare i territori invece di discutere con i territori. Io penso che con i territori si discute, ma non perché dobbiamo accarezzare quello che qualcuno chiama l'effetto NIMBY, la sindrome NIMBY, non a casa mia, non nel mio giardino, no, perché nei territori sono fatti di imprese, di persone, di cittadini, di comunità che hanno banalmente bisogno di essere ascoltate, ha bisogno di risposte, bisogno di essere convinte.